Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto e confusionario disordine della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, cari signori, vi ricordate che qualche giorno fa qualcuno ha avuto la simpatica idea di cercare di parlare positivamente del maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, universalmente considerato uno dei più perniciosi, incapaci e deficienti comandanti militari italiani della seconda guerra mondiale, di uno dei più disgraziati comandanti militari, della seconda guerra mondiale in generale e della storia. Mi imbacilla Graziani, lo sappiamo tutti. Come ha detto qualcuno, parlare positivamente di Graziani con uno come me è come buttare bistecchia ai piragna. Oggettivamente rende bene l'idea. Nei commenti a quel video è saltata fuori una ipotetica classifica dei cialtroni che sono stati messi al comando di un esercito e che hanno fatto le cosiddette figure di palta. Avevo fatto un breve elenco dicendo che To insieme a Graziani poteva essere paragonato Himmler, poteva essere paragonato Budienni, poteva essere paragonato anche Douglas MacArthur che secondo la definizione dell'amico Gianluca Bertozzi, Douglas MacArthur non è catalogato tra le bibliche piaghe d'Egitto semplicemente perché non è mai stato in Egitto. Vicino all'Egitto, abbastanza vicino all'Egitto c'è la Tunisia e in Tunisia ci fu qualcuno che fu ancora più piaga, se possibile, di MacArthur, un generale americano che si dimostrò incapace, incompetente, idiota, imbecille, come dire, assolutamente inadeguato a un ruolo di comando. Graziani. Sì, signore e signori, in questo video, quest'oggi, vi parliamo dell'uomo che, come dire, si è guadagnato il poco lusinghiero titolo di Graziani americano. Signori, quest'oggi vi parliamo di questo tizio qua. Eccolo qui, in tutto il suo dubbio splendore, intento nell'opera di non capire un cazzo su una cartina nel suo quartier generale in Tunisia, signore e signori, il generale Lloyd Friedendahl, il più incapace, il più incompetente, il più vile, il più stupido generale che abbia mai vestito la divisa dell'esercito dello zio Sam. Sì, sì, questo tizio che vedete in questa fotografia era quello che si dice un clamoroso idiota. Eh, un citrullo, solo che era un citrullo che aveva ai suoi ordini un corpo d'armata americano oltre mare. Chi era questo Lloyd Friedendahl e perché si guadagnò questa pessima e, oserei dire, più che giustificata fama? Era nato nel 1883 nel Wyoming, aveva passato praticamente tutta la vita nell'esercito americano e, come dire, era entrato in Africa, era arrivato in Africa al comando del secondo corpo d'armata americano con l'operazione Torch e, mettiamola così, è noto per avere comandato la cosiddetta Central Task Force durante, come dire, durante l'operazione Torch. Era il comandante del secondo corpo d'armata americano ma non ebbe decisamente molto successo, anzi, anzi, perché, come dire, fu molto malamente sconfitto nella battaglia di Sidi, Buzid e nella battaglia del passo di Kasserin contro le esperte, insomma, contro le espertissime truppe tedesche dell'Africa Corps, contro, insomma, quello che rimaneva dell'Africa Corps, contro quello che rimaneva anche delle forze italiane. Fece una clamorosa figura di merda, tant'è che gli inglesi, vedendo all'opera gli americani, vedendo la clamorosa sconfitta, le clamorose sconfitte di Sidi Buzid e del passo di Kasserin, gli inglesi, molti inglesi, dissero bene e te pareva abbiamo anche noi i nostri italiani. Per la serie Compass ancora continuava a pesare sulla nostra storia, non del tutto a torto. Ma chi era questo Friedendhal? Friedendhal il 4 ottobre del 1963. Insomma, chi era questo tizio? Praticamente il generale Friedendhal non stava simpatico a nessuno, né ai suoi sottoposti né ai suoi superiori. E il perché un così importante comando, cioè insomma, il perché affidare il comando di truppe inesperte e al debutto bellico sul teatro europeo ad un personaggio così ottuso, così incapace e decisamente non all'altezza del compito, diciamo che è un mistero. Nelle mie conversazioni Whatsapp con l'amico John Mariani ci viene fuori spesso la vecchia battuta del leggendario Grucio Marx che diceva che l'intelligenza militare è una contraddizione in termine. E oser dire che mai come nel caso del mitologico generale Friedendhal questa definizione è spettacolare perché si trattava di un uomo che fisicamente e moralmente non aveva i requisiti minimi per fare lo sturaccessi. Cioè quest'uomo non era in grado nemmeno di coordinare la pulizia di una fossa settica. Siamo sinceri. Uno dei più determinati generali americani della seconda guerra mondiale, il generale Lucian K. Trascott, che oggettivamente era noto per essere un duro e per essere soprattutto una persona che non la mandava dire, lo descrisse come piccolo di statura, rumoroso e rude nel parlare, franco nelle sue opinioni e critico verso i superiori come verso i sottoposti. Non è che vi ricorda qualcuno? Qualcuno che veniva da affile e dintorni? Vabbè, lasciamo stare. Era incline a saltare alle conclusioni che non erano sempre ben fondate. Non lo so, io continuo a sentire puzza di qualcuno che viene da affile. Raramente lasciò il suo posto di comando, continua Trascott, per visite di persona e ricognizioni, eppure era impaziente di avere i pareri dei sottoposti più familiari di lui con il terreno e altre condizioni. In pratica, sto coglione, chiamiamolo col suo nome, coglione, se ne stava nelle retrovie a comandare, mentre il buonsenso voleva che, per avere un'idea di com'era il fronte su cui le sue truppe dovevano combattere, fare come Rommel, fare come Montgomery, fare come Ocinelec, ovvero sia avvicinarsi alla linea del fronte e guardare di persona? No, 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 come un certo, come dire, come un certo personaggio che ben conosciamo, come un certo personaggio che ben conosciamo, Friedendal, che cosa fece? Rimase sempre, costantemente nelle retrovie, rompendo continuamente, diciamolo, allora non dovrei dire le parolacce, ma diciamoci la verità. Questo incompetente, questo idiota, se ne stava comodamente rintanato nelle retrovie, non mise mai piede vicino alla prima linea, ma continuava a rompere le palle ai sottoposti, dicendo com'è la situazione lì, com'è la situazione qua, com'è la situazione... Vada a vedere, generale, di persona, se lo vuole sapere, senza rompere tanto le palle ai suoi sottoposti, che spesso e volentieri hanno ben altro da fare, ovvero sia fare una cosa seria come la guerra. Ma non c'era niente da fare. Allora, il suo superiore inglese, il generale Anderson, lo considerava un incompetente e un incapace ben prima della sconfitta di Cassarine, del passo di Cassarine. Per dire del modo di fare di Friedendhal, usava per parlare un gergo tutto suo, ma anche per dare ordini. Cioè, praticamente, chiamava le unità di fanteria Walking Boys, i ragazzi che camminano, e quelle di artiglieria Pop Guns, i petardi. Va bene. E invece di usare, cioè, cosa ben più grave, invece di usare gli indicatori di posizione standard nelle mappe militari basate su griglie, su posizioni così, cioè creava codici tutti suoi, tipo il posto che comincia per C, facendo una confusione inenarrabile. Cioè, praticamente, dov'è posizionata la truppa? La truppa è posizionata vicino al posto che comincia per C. Insomma, signori, mettetevi nei panni degli ufficiali subalterni di Friedendhal, ok? Impegnati a organizzare una battaglia, impegnati ad affrontare gente temprata da anni di guerra come quelli dell'Africa Corps, come i nostri soldati che oggettivamente non erano più quelli di Compass, ma erano veterani duri e temprati, comandati finalmente da un generale all'altezza come Giovanni Messe, ok? Immaginatevi che cosa dovevano patire gli ufficiali subalterni di Friedendhal indicando sulla mappa il posto che comincia per C. Io vi giuro che quando ho letto sta cosa sui miei testi che parlano di Friedendhal io vi dico la verità, io non ci riuscivo a credere. Io non riuscivo a credere che una persona fosse così imbecille quanto Graziani, ma va bene. Cioè, questa cosa, vi lascio immaginare la confusione che creava, ripeto, truppe giovani, fresche, inesperte arrivate in un teatro che non conoscevano, comandate da un incompetente che non era neanche in grado di dare ordini chiari perché parlava come cazzo gli pareva? Cioè, come se io vado ad una riunione e indico dite al terzo reggimento di andare a Coso, a casa di Coso dite al secondo reggimento di spostarsi in culo ai lupi Cioè, così è Cioè, questo veramente faceva Friedendhal e vi lascio immaginare la confusione dei comandi vi lascio immaginare il modo in cui gli americani dovettero affrontare gli italo-tedeschi a Sidi Bouazid e al passo di Casserine Poco da dire, cioè sorprende che la sconfitta americana in quelle due battaglie non sia stata più clamorosa Cioè, i suoi sottoposti, i sottoposti di Friedendhal dovevano fare una fatica enorme nel cercare di capire che cosa intendeva il loro comandante tizio, ho detto spostiamo questa roba in culo ai lupi spostiamo il terzo reggimento dice, mandiamo The Walking Boys vicino al culo ai lupi in culo ai lupi spostiamo The Pop Guns spostiamo i petardi a casa di Dio e cose di questo tipo cioè, parlava veramente così Friedendhal e vi lascio immaginare quei poveretti dei suoi sottoposti la fatica che facevano per cercare di capirlo un idiota siamo sinceri un idiota un sesquipedale imbecille non vi ricorda qualcuno? vabbè, signori, scusate allora una cosa che accomuna Friedendhal a Graziani è anche il fatto che amava molto stare a distanza di sicurezza dalla linea del fronte è molto al sicuro perché prima di Casserin del passo di Casserin della battaglia del passo di Casserin Friedendhal impiegò una compagnia del genio per costruire un grosso posto di comando semi-interrato oltre 100 km dietro la linea del fronte vi ricorda qualcuno? vi ricorda qualcuno? a me tanto per la serie i Piragna stanno facendo festa con le bistecche, signori va bene, va bene, va bene scusate scusate allora praticamente con questa storia del posto di comando interrato costruito a 100 km dietro la linea del fronte oltre a somigliare pericolosamente al somaro di affile il generale Friedendhal cominciò a creare forti imbarazzi tra i suoi colleghi Bradley lo definì veramente una vergogna per ogni soldato americano Friedendhal inoltre ripeto non visitò mai il fronte e non considerò mai le informazioni dati dai comandanti che si trovavano sul fronte praticamente gli arrivavano i rapporti dei comandanti o riceveva i comandanti sulla linea del fronte non li stava neanche a sentire se ne sbatteva le palle lui a 100 km di distanza nel suo comodo bunker prendeva le decisioni e muoveva le truppe sulla cartina dicendo i ragazzi che camminano devono andare in culo ai lupi i petardoni devono i lanciapetardi devono andare a casa di Dio eccetera cioè signori vi lascio veramente immaginare vi lascio veramente immaginare allora come fece qualcun altro qualche anno prima fece lo stesso identico errore del maresciallo Graziani ovvero sia dividere le unità disperderle su un ampio territorio posizionando i caposaldi posizionando gli elementi troppo distanti fra loro per darsi mutuo e reciproco supporto la cazzata di Graziani ripetuta da Friedendal di nuovo ancora evidentemente deve essere l'area dell'Africa che come ci mettono piede svalvolano ma vabbè lasciamo stare allora praticamente questa cosa dei caposaldi delle postazioni impossibilitate a fornirsi mutuo sostegno errore già fatto da Graziani nel 1940 durante insomma durante l'avanzata verso Sidi e il Barrani e durante l'operazione Compass fu come dire ripetuto in maniera ancora più grossolana forse ancora più grottesca da Friedendal e praticamente le postazioni delle forze insomma le posizioni delle forze di Friedendal non potevano ripeto non potevano darsi mutuo sostegno e soprattutto non potevano usufruire di un supporto efficace da parte dell'artiglieria che era l'arma più efficace dell'esercito americano allora il 5 marzo del 1943 al passo di Kasserin gli americani furono solennemente mazzuolati dai tedeschi e Eisenhower visitò il quartier generale del secondo corpo e parlò con il generale Omar Bradley uno dei sottoposti di 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 Friedendal e gli chiese Brad che cosa ne pensi di questo comando Bradley da bravo generale americano con pochi peli sulla lingua rispose va male ho parlato con tutti i comandanti di divisione hanno perso fiducia in Friedendal come comandante di corpo allora il giorno seguente 6 marzo 1943 Friedendal fu silurato rispedito a calci in culo in america dove si occupò esclusivamente di addestramento e basta per il resto della guerra venendo congedato nel 1946 e a sostituirlo indovinate un po' chi arrivò ma si proprio lui Patton Patton il matto proprio lui vecchio sangue e fegato almeno però uno che sapeva fare il suo mestiere pur con tanti difetti mentre Friedendal era un clamoroso incompetente allora c'è uno storico statunitense di origine italiana che si chiama Carlo Deste che è un ex ufficiale dell'esercito dell'esercito americano Carlo Deste ha descritto Friedendal come uno dei più inetti ufficiali anziani a detenere un alto comando durante la seconda guerra mondiale e il comandante della seconda divisione corazzata Ernest Hermon nel suo rapporto a seguito della battaglia del passo di casserine chiamò Friedendal come figlio di puttana son of a bitch testualmente nel rapporto scritto dal generale Hermon comandante della seconda divisione corazzata dell'esercito degli Stati Uniti in America compare nel rapporto la parola che definisce il generale Friedendal come figlio di puttana son of a bitch assolutamente incapace e incompetente successivamente Hermon rincarò pure la dose perché definì Friedendal come fisicamente e moralmente un codardo un vigliacco e un incapace insomma signori signori in ogni esercito ci sono degli incapaci in ogni esercito nell'esercito inglese nell'esercito francese nell'esercito tedesco nell'esercito dell'unione sovietica nell'esercito italiano ce ne avevamo tanti e ci avevamo l'imbarazzo della scelta Graziani Graziani quello a cui Friedendal più si avvicina Soddu Pariani Visconti Prasca signori Visconti Prasca l'uomo che nulla capiva e che a nulla serviva signori cioè Friedendal questo questo signore cioè questo signore qua ecco ve lo rifaccio vedere in foto il generale Lloyd Lloyd Friedendal fu indubbiamente uno dei più incapaci uno dei più inetti uno dei più vergognosi comandanti militari americani di tutti i tempi indubbiamente uno dei peggiori della seconda guerra mondiale e che fortunatamente riuscì a fare pochissimi danni perché rimase al fronte pochi mesi ma veramente le analogie con Graziani sono assolutamente sorprendenti un posto di comando al sicuro un posto di comando interrato sotto terra a un centinaio di chilometri di distanza dal fronte mai una visita al fronte mai una visita alle postazioni avanzate mai uno sguardo diretto sul campo di battaglia ma soltanto la grandissima soltanto passare il tempo a rompere i coglioni e i sottoposti che dovevano fornirli rapporti precisi su come era il fronte ma vagli a vedere idiota no no lui se ne stava al sicuro nel suo bel bunker a 100 chilometri dalla linea del fronte tanto al fronte la pelle se la giocavano i suoi sottoposti i suoi ufficiali subalterni e i suoi soldati insomma la storia con il generale Friedendal non è stata assolutamente tenera anche perché oggettivamente siamo sinceri siamo sinceri soltanto credo che soltanto Graziani sia riuscito a combinare non riuscì a combinare i disastri di Graziani perché oramai gli italo-tedeschi in Tunisia erano troppo deboli e non avevano più la forza fisica per sfondare definitivamente le linee americane al passo di Kasserin ottenero un grande successo tattico i tedeschi a Kasserin ma non avevano più la forza di un tempo per avanzare come ai vecchi tempi se mi si passa il gioco di parole e questo signore se non combinò una compass americana lo deve solo proprio grazie alla debolezza dell'avversario gli italo-tedeschi erano allo stremo e insomma l'attacco al passo di Kasserin fu l'ultimo capolavoro di Rommel se vogliamo ma Friedendhal si impegnò veramente tanto per fare una figura di merda ma veramente tanto cioè ripeto poco intelligente arrogante presuntuoso ma al contempo vile e incapace insomma un disastro grazie al cielo signori signori vi dico la verità vi dico la verità un uomo così un uomo così un uomo così cioè che riesce nell'impresa di fare di fare concorrenza a Graziani o a Soddu o a Visconti Prasca eh vi rendete conto cioè ci rendiamo conto ci rendiamo conto c'è gli americani avranno tutto il diritto di prenderci in giro per aver detto oh mangia spaghetti ci avete cioè come dire ci avete dichiarato guerra ho detto guardate che generale avete voi avete Friedendhal signori signori gli imbecilli ci sono ovunque lo sappiamo bene gli imbecilli di comandanti incapaci ne hanno avuti tutti gli eserciti l'esercito italiano oggettivamente di idioti nelle alte sfere ne aveva parecchi ne aveva veramente tanti ma come dire di Graziani ce n'è uno eccolo qua e tutto il resto come dire sono Friedendhal che avanzano ripeto il generale Friedendhal fu indubbiamente il Graziani americano un imbecille fatto e finito un vile un inetto un incapace un personaggio assolutamente privo di ogni requisito militare Dio solo sa io vorrei sapere veramente cioè come come cazzo ha fatto questo ad arrivare a quei posti di comando e soprattutto chi cazzo ce l'ha messo perché va bene in una dittatura come l'Italia facevi carriera soltanto se leccavi i postergiori giusti ripeto Cavagnari Iacchino Soddu Visconti Prasca Graziani Badoglio l'uomo l'uomo galleggiante eh in Italia noi abbiamo un vasto campionario ne abbiamo eh ma Friedendhal Friedendhal signori Friedendhal 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 credo che abbia il dubbio il dubbio onore di essere veramente uno dei pochissimi generali alleati a poter essere paragonato al sommo al divino all'immane all'immenso condottiero di carta pesta testa vuota e somaro di affile nonché Augusto imbecille Rodolfo Graziali insomma signori lo so mi hanno buttato la bistecca e mi ci sono messo a mangiarla come un piraglia insomma quando c'è la possibilità di parlare male di certa gente hanno proprio ragione è veramente come buttare le bistecche ai piraglia quindi cari signori che vi posso dire consoliamoci perché noi italiani non eravamo gli unici ad avere l'esclusiva dei generali imbecilli ce l'avevano pure i vincitori i loro bravi cretini però almeno 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 gli eserciti alleati quando ci avevano un coglione che si rivelava un coglione non si vergognavano a ciao ok e soprattutto anche Frieden ebbe il buon senso dopo la figura di merda fatta a Kasserin di stare zitto e di tornare in America dove si occupò solo di addestramento delle truppe non fece mica certo come Graziani per fare un dispetto all'odiato Badoglio si mise a fare il ministro della guerra per la Repubblica di Salone insomma cari signori ho parlato di uno dei più deliranti di uno dei peggiori di uno dei più incompetenti comandanti americani della storia il generale Lloyd Friedendahl quindi cari signori adesso tocca a voi con i commenti tocca a voi con le vostre considerazioni tocca a voi incrementare insomma raccontare quello che sapete del generale Friedendahl quindi cari signori vi ringrazio per l'attenzione buonanotte e arrivederci al mio prossimo video ciao